e contiene con il fiatto sospeso tutta l'Europa. Tanto due elementi, il primo sono exit poll che sono molto diversi dai sondaggi quindi aspettiamo naturalmente a farci un'idea definita perché potrebbero esserci ancora delle sorprese. Il secondo elemento è che se dovessimo paragonare quel che è successo al primo turno di oggi sulla base di exit poll col primo turno del 2017, noi oggi vedremo due cose differenti che Macron è andato meglio, che la Le Pen ha un po' migliorata ma che Melanchon è andato più o meno allo stesso modo perché all'epoca prese il 19,6%. Il dato interessante è che se si mettono insieme tutte le forze antisistema oggi si supera il 50% mentre nel 2017 le forze europeiste erano sopra il 50%. Questa è la differenza più importante. Dopodiché la Francia è un grande acceleratore delle vere divisioni del mondo perché Macron incarna l'Europa, incarna il sogno di una nuova costruzione europea è il perno centrale di coloro che vogliono essere degli utili costruttori dell'Europa mentre il fronte avverso, il vero perno centrale degli antisistema somiglia molto a una figura che non dispiacerebbe a Putin. Qui da una parte ci sono gli utili costruttori dell'Europa ma dall'altra parte a mio avviso ci sono gli utili idioti dell'Europa naturalmente in questo quadro.